Musica Nel percorso dedicato agli appassionati del mare, quindi nel mondo nautico, non può mancare un'assistenza anche per quanto riguarda il cuore e a questo pensa la DAE Abruzzo con un prodotto che è diventato di utilizzo comune, necessità comune, che è il defibrillatore. Io sono con Fabrizio Papponetti. Il nostro compito è quello di divulgare sempre di più questa cardioprotezione in qualsiasi ambiente, nello specifico qui alla Fiera della Nautica anche sulle imbarcazioni, perché è un salvavita a tutti gli effetti di uso semplicissimo che può salvare una vita in condizioni estreme, quali ad esempio in mare aperto. Viene acceso con un pulsante, dopodiché ci sono le guide sia sonore che visive che guidano la persona al movimento da fare per il paziente. www.blsd118.it